Canegatini-Bagni, comune tra i premiati della Regione per la raccolta differenziata. Il comune di Canegatini-Bagni, venerdì 17 luglio alle 10, nella Sala Convegne del Centro Fioristico Le Ciminiere a Catania, riceverà il premio della Regione Sicilia quale comune virtuoso nel campo della raccolta differenziata, nella fascia tra il 50 e il 65%. Alla cerimonia di premiazione degli enti locali virtuosi, preseduta dal Presidente della Regione Nello Musmeci, saranno presenti l'Assessore regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità Alberto Piero Bon, il Dirigente Generale della Protezione Civile Salvo Coccina e il Neodirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti Calogero Foti. A ritirare il premio per il comune canegatinese ci sarà, su delega del Sindaco Marilena Miceli, l'Assessore Sebastiano Gazzara. Un buon risultato, quello ottenuto dal comune di Garigantini-Bagni, che lo scorso anno si è posizionato sul 52%, continuando a mantenere costanti i costi dell'intero servizio, seppur allargando la raccolta porta a porta, per non gramare ulteriormente sugli utenti. Un dato del Senato a migliorare nell'anno in corso, questo l'auspicio dell'amministrazione comunale, con un impegno maggiore da parte dei cittadini, nonostante il lungo lockdown, e da agosto il cambio di gestione del servizio, che dopo il bando pubblico dei mesi scorsi, passa dalla Prosat all'impresa Puccia di Modica, agendicataria della gara, che già in passato ha svolto il servizio di raccolta a Canigatini-Bagni.